Ci troviamo a Campo di Marte, ad Arezzo. Si è consumata ieri sera l'ennesima rissa, due le fazioni opposte che si sono affrontate con colli di bottiglia rotti. È il secondo episodio in pochi giorni ad Arezzo, dopo l'aggressione al 27enne, ferito e ritrovato in una pozza di sangue in pieno centro, nella zona di Campo di Marte, una rissa tra cittadini di origini straniere. Si sarebbero affrontate due opposte fazioni, albanesi da una parte e nordafricani dall'altra. Il motivo potrebbe essere lo stesso dell'aggressione al 27enne di pochi giorni fa, apprezzamenti non graditi rivolti ad una ragazza. Prima si sono affrontati con calci e pugni, poi hanno usato colli di bottiglia rotti come fendenti. Un uomo è rimasto ferito, ma in maniera lieve, sul posto i sanitari della Croce Bianca di Arezzo che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Donato, ma solo per la medicazione. I carabinieri della compagnia di Arezzo, guidati dal comandante Aldo Gargiulo, hanno accompagnato in caserma per accertamenti cinque dei presenti di origini albanesi, che sono stati poi denunciati per rissa aggravata. Al momento dell'arrivo dei militari, i nordafricani erano già fuggiti, sono in corso le ricerche per identificare tutti i partecipanti alla rissa.